A Favara i carabinieri della locale tenenza hanno tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di carcerazione emessa dalla procura della repubblica presso il tribunale di Agrigento il favarese Baio Antonio, 76 anni, imprenditore. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Agrigento per espiare la pena di 28 anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio del re delle sale giochi in provincia di Agrigento. Calogero Palumbo Piccionello, 67 anni, omicidio avvenuto a Favara nella serata del 27 novembre 2012. Baio, pochi minuti dopo aver esploso i colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Palumbo Piccionello, ha confessato il delitto avvenuto per strada in Via Napoli, nel centro storico di Favara. L'anziano è andato dai carabinieri, ha consegnato l'arma e ha indicato il luogo dove c'era il cadavere. Il movente, secondo quanto riferito al GIP Luisa Turco durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto, sarebbe stato legato a una lettera anonima aggiunta nel 2009 in prefettura che etichettava Palumbo Piccionello come un usuraio. L'imprenditore aveva accusato Baio di essere l'autore della missiva e il contrasto prolungato nel tempo sarebbe sfociato nell'omicidio. Dal 2014 è rimasto in libertà dopo la scadenza dei termini di custodia cautelare con obbligo di soggiorno a Caltanissetta. La difesa di Baio ha riproposto alla Suprema Corte il tema dell'infermità mentale. I familiari costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Antonino e Vincenza Gazziano hanno ottenuto il risarcimento dei danni.